Prorogati i termini per prendere parte al distretto urbano del commercio del comune di Battipaglia, denominato distretto del commercio turismo città di Battipaglia. C'è l'accordo di distretto tra il comune di Battipaglia, l'associazione Confcommercio Campania e l'associazione Confesercenti Campania e c'è anche il riconoscimento della regione Campania, ma con molta probabilità non c'è stato un numero sufficiente a far partire il nuovo strumento del commercio locale, una situazione che alla scadenza del termine di adesone previsto per il 30 novembre scorso al distretto del commercio ha spinto il dirigente del settore del comune di Battipaglia a riaprire i termini fissando la scadenza alle ore 23 e 59 del 31 gennaio del 2024. Il distretto dunque è uno strumento in più per favorire la crescita del commercio in città attraverso lo sviluppo territoriale e non solo. Il bando è aperto anche ad altre realtà, come ad esempio il terzo settore, associazioni imprenditoriali, consumatori, camere di commercio, ordini professionali e organizzazioni di categoria.